Buono allineamento, discosto dall'Ala Lex Wise, gli altri tutti perfettamente a rete, poi con la macchina che prende velocità, all'interno Nuvolari Grad, con a largo la Corugna, poi lungo la corda Ops Deni, la Corugna va su Nuvolari e in poche battute sfila, ovvero prima del paletto di 200 iniziali che la Corugna completa in 14,3 sul mio cronometro. Seconda posizione per i Nuvolari, terza per Ops Deni, poi Nero De Gloria. Intanto si è completata la prima curva, i cavalli si presentano al passaggio di fronte alle tribune, 31 per i primi 400 metri, l'esterno Louvre si porta appresso l'Ex Wise. Intanto la Corugna chiude i 600 in 46,5, Nuvolari nella sua scia davanti a Ops Deni, Louvre a largo si trascina all'Ex Wise, poi in corda Nero De Gloria, a precedere Noram LB e infine Olaf Rivalco. 800 passati in 1,2 e mezzo dalla Corugna che guida anche al termine della seconda curva e all'imbocco della retta opposta alle tribune precede sempre la coppia formata da Nuvolari e Louvre. Poi Ops Deni e l'Ex Wise, primo chilometro per la Corugna in 1,18. Mancano poco più di 500 alla conclusione, il ritmo si fa più selettivo, la Corugna al comando, Louvre che prova l'aggancio, Nuvolari che segue lungo la corda, poi Ops Deni con a largo l'Ex Wise, 400 per venire a casa con la Corugna che va via di buona lena. La retta opposta coperta in 14,5, la Corugna, Louvre che prova l'attacco, Nuvolari lungo lo steccato, poi Ops Deni e l'Ex Wise in coppia. Al termine della piegata conclusiva la Corugna ancora in vantaggio, Louvre che si fa più minaccioso all'esterno, lungo la corda Nuvolari grad, poi Ops Deni, l'Ex Wise lanciato a centro pista. Le battute conclusive con la Corugna, Louvre e poi anche l'Ex Wise che chiude molto forte sul palo. Forse la Corugna sull'Uvre, l'Ex Wise e poi Nero de Gloria e Nuvolari grad. Si è giocato tutto in una volata conclusiva con 29,3 sul mio cronometro, 44 scarso gli ultimi 600, 43,8 sul mio cronometro per gli ultimi 600 metri. La Corugna si difende da tutti gli attacchi di Louvre, vediamo sul palo. La sensazione ce l'abbia ancora fatta la femmina. Però gli è arrivato parecchio vicino Louvre. Dovrebbe ancora avercela fatta la Corugna, ma Louvre è parecchio vicino. Il terzo per l'Ex Wise che ci ha messo un po' troppo a mettersi sulle gambe e poi è finito a velocità doppia, ma ormai troppo tardi. Quarto Nero de Gloria, quinto Nuvolari Rad, la Corugna, Cesare Meli. Il training di Biagelo Verde, i colori della scuderia B-Mag. La quota al totalizzatore per la Corugna è di 4.